Buongiorno a tutti, e benvenuti a Big Basket. Dopo 22 anni, la VL ha spugnato il Palacarrara di Pistoia, giudicandosi uno spareggio salvezza importantissimo. Benissimo Pesaro, che adesso è dodicesima in classifica, molto bene anche Montegranaro, che è giunta alla sesta vittoria filata, ed è nelle zone altissime della classifica. Non bene invece Iesi, sempre in A2, la Termoforgia ha perso di 31 punti contro Piacenza, e si è però rinforzata con due giocatori, poi ne parleremo. Oggi l'argomento del giorno però è la Poderosa, e lo affronteremo assieme al nostro ospite, e con noi il playmaker della Poderosa Montegranaro, Matteo Palermo. Benvenuto. Buongiorno, buongiorno a tutti, ciao. Alla mia sinistra è tornato Andrea Pecchia, che è in mezzo alla neve di Matelica. Sì, sono coperto dalla neve. Buongiorno a tutti, buongiorno Camilla, buongiorno Matteo. Matteo, tu sei nato nel 1991 a Rimini, hai cominciato a giocare a Sant'Arcangelo, poi ti sei spostato a Capodorlando, a Legnano, il periodo forse migliore della tua carriera, e poi Verona, e quest'estate hai scelto Montegranaro. Che tappa è quella della XL Extra Light, forse quella della maturità, e che cosa ti ha spinto a scegliere le marche? Quello che mi ha spinto a venire a Montegranaro nelle marche, perché, l'ho detto fin dall'inizio della stagione, l'anno scorso non era stata una stagione brillantissima, e quindi la proposta di Montegranaro era di riacquisire un ruolo importante in questa categoria, per cui ho accettato con grande piacere e soddisfazione. Quindi è una stagione per te della consacrazione, no? Sì, se vogliamo definirla così, un po' come hai detto tu, anche per l'età in cui sono, è sicuramente da poter definire in questo modo. Tu sei uno dei perni del quintetto di Cesare Pancotto, giochi 26,5 minuti e segni oltre 10 punti di media. Sei il miglior tiratore da tre punti, il miglior assessment della tua squadra, sei soddisfatto del tuo rendimento finora? Sei informatissima, sei più cose di me. No, sono soddisfatto perché come giocatore, essendo un giocatore che trae positività e energia dai risultati di squadra, se le mie prestazioni sono buone, perché molto probabilmente la squadra funziona, quindi sì, per il momento mi posso ritenere abbastanza soddisfatto. Quest'anno hai ottenuto anche un risultato extra basket significativo e ti sei laureato, quindi complimenti dottore, in scienze motorie all'Università di Rimini. È stato difficile conciliare lavoro e studio? Sì, è stata una vera impresa, una via crucis, come l'ho definita io, perché ogni anno ti sposti, le sessioni d'esami, praticamente ho studiato solo l'estate, quindi ho allungato i tempi in maniera disdicevole, per cui è stata una bellissima soddisfazione, ma è stata veramente dura. Quindi è un percorso tortuoso. Sì, sì. E tu hai sempre giocato con il numero 12, da quando eri ragazzino, c'è un significato legato al numero? No, è stato il primo numero che scelsi da bambino, da piccolino, e da lì me lo sono portato sempre dietro. Il tuo soprannome è Pale? Esatto, facile da capire, insomma l'abbreviazione del cognome. E ti senti un play puro, oppure ti piace anche giocare da guardia? Può capitare, magari per esempio nelle ultime partite che con Andrea Traini ci siamo affiancati, anche in passato in altre squadre in cui ho giocato, ho giocato con il doppio playmaker, insomma, però nasco come playmaker, tra virgolette, puro, anche se nella pallacanestro di oggi, insomma, è una definizione abbastanza in via di estinzione, perché il gioco richiede, c'è stata un'evoluzione, diciamo. Andrea, Matteo è un giocatore solido, un regista vero, chiama a mettere in ritmo i compagni, difende, tira da tre, fa un po' tutto. Sì, vorrei iniziare facendogli complimenti per il fatto che sei laureato, perché i ragazzi, no, che poi intraprendono questa strada, nel momento in cui a 18 anni devono scegliere, molti fanno fatica, invece lui ha ottenuto un grande risultato, anzi, sei portatore, un messaggero che dovresti magari passare la cosa ai ragazzi nel settore giovanile, ti ritroverai questa cosa quando purtroppo dovrai appendere le scarpe al chiodo, magari fra vent'anni, ecco, quindi non prima. Giocatore che a me piace, perché è di struttura, quindi è un giocatore che sa quello che deve far fare la squadra e nella realtà l'energia poi viene fuori con il gioco espresso, però la mente è quella di controllo, quindi è giocatore di struttura, io l'ho visto giocare, non tantissimo, però quelle volte che l'ho visto giocare mi è sempre piaciuto la squadra in ordine, la squadra con le condizioni che fa, poi giustamente come dice lui, l'evoluzione del gioco oggi, playmaker di una volta non c'è più, che ne so, Maurizio Lasi se voglio, oppure Charlie Caglieris, quella cosa che non si producono proprio più, ci sono giocatori che devono saper fare più cose all'interno del gioco, con il fatto che oramai il pick and roll che è diventata una parola che forse fra un poco ce la ritroviamo anche in chiesa, durante l'omelia, ci sarà il prete che dirà ragazzi fate bene il pick and roll, invece che purtroppo questo cambiamento che non è un purtroppo, ci impone questa cosa qua, quindi secondo me lui è un giocatore che all'interno di questo contesto, avendo anche il fisico che l'altezza è giusta, è un giocatore dove può avere entrambi i ruoli, un nostro prodotto italiano molto interessante e importante, scuola diciamo zona Rimini e Rimini in un periodo storico ha prodotto veramente tanto, tanti talenti, tanti giocatori al di là di Myers, Semprini, Ferroni, eccetera, tutta quella generazione là. Esatto. Matteo è un ragazzo che ama correre, ma è anche un uomo con la testa a posto, e cosa gli auguri tu per il futuro tenendo conto delle sue potenzialità, forse dovrebbe essere un pochettino più egoista in campo? Non lo so, questo non lo so, so che è un 91, quindi è generazione gentile, vitali, eccetera, eccetera, quelli che in questo momento stanno, comunque sia chi è esploso completamente, chi è arrivato a lamelli, anche a un livello altissimo, lui è quella generazione lì, per lui c'è questo, che l'età è quella del concretizzare, quindi lui adesso da qua deve mettere fieno in cascina, come si dice, nel ruolo suo, che tra l'altro è un ruolo che c'è tanta competizione, perché nei lunghi ce ne sono pochi, chi è bravo ha più strada, tra i piccoli chiaramente c'è, ci sono tanti, quindi il fatto che lui è di struttura, un ragazzo che già la squadra la fa giocare in una certa maniera, secondo me dà questo la forza a lui in futuro, di avere il controllo, oppure di essere nel momento del gioco d'energia, cioè gioco io, faccio io, se serve, chiaro che a Montegrenaro può far giocare la squadra, perché gli americani sono, molto utilizzano il pallone, non è che lo ridanno indietro, però in altre squadre lui potrebbe essere un giocatore con entrambi le cose. Beh, intanto a Montegrenaro sta disputando probabilmente la miglior stagione di sempre, e seconda in classifica, e il merito è anche di Matteo. Assolutamente, ma fa parte proprio del contesto, ottima quello che sta facendo secondo me Montegrenaro quest'anno, campionato assolutamente nelle previsioni, perché comunque sia, vedendo un po' tutto quello che circonda Montegrenaro, c'è una certa carica, c'è una certa voglia di risultati, la squadra gioca molto bene, indubbiamente il merito c'è di Matteo. Matteo, domenica scorsa l'XL Extra Light ha vinto una partita contro Ravenna per 74 a 65, dimostrando carattere e personalità, all'inizio non siete partiti benissimo, avete un po' titubato, poi nei 5 minuti finali vi siete scatenati. Il vostro allenatore ha detto però che vi è mancata la continuità, e quindi bisogna un po' crescere di qualità negli allenamenti. Sì, a proposito di questo, della continuità degli allenamenti, adesso ultimamente è un periodo in cui non è una scusa, perché poi si sente molto spesso usare come non è una scusa, però il fatto di far fatica ad allenarsi durante la settimana, abbiamo avuto qualche acciacco, qualche giocatore, e purtroppo è la verità, quando non riesci a fare con continuità 5 contro 5, ad esprimere una buona intensità durante la settimana, è chiaro che nell'arco dei 40 minuti di una partita questo può venire fuori, può riflettere, può riflettersi, quindi la verità insomma, dobbiamo migliorare su questa cosa, però d'altro canto abbiamo un po' faticato ad allenarci con continuità. Comunque è una bella vittoria, e con Ravenna avete il 2 a 0, tra l'altro all'andata, al più 34, è stata forse la vostra più bella partita. Sì, sicuramente, beh, io dico che in questo campionato poi tanto fa la differenza anche in che momento incontri le squadre, questo poi vale anche per qualsiasi altra categoria. Comunque adesso ci aspettano tutta una serie di partite dove si andrà a giocare per gli scontri diretti e ti posizioneranno nella classifica finale. Andrea Smith è stato tenuto a 5 su 17 dal campo, Corbett ha superato i mille punti, in maglia poderosa e Palermo ha infilato 15 punti. Farei, guarda, girerei questa mia domanda, lui, com'è giocare con Corbett? Perché è un giocatore che sotto certi aspetti vedendolo come tifoso dà piacere, fa piacere vederlo giocare. Però insieme com'è giocarci? Ti girerei questa domanda semplice, nel senso che gli metti la palla nelle mani e poi fa lui. No, no, però la Marshall più che un realizzatore è un grandissimo attaccante perché magari tira fuori dei canestri proprio di talento suo, di puro talento, anche da gioco rotto perché poi alla fine la differenza la fa quella, possiamo inventarci qualsiasi cosa ma in certi momenti devi andare dal giocatore in cui con più talento può creare qualcosa. Quindi è un grandissimo attaccante e come dicevo prima basta a volte passargliela e poi tanto fa lui. Ma però gliela passi bene considerato il numero degli assist. C'è sicuramente sempre un'idea di base, di squadra, di qualcosa di costruito e provato, non si improvvisa niente ecco, però poi comunque devi sapere con questa palla devi saperci fare qualcosa e da qui non si scappa. Esatto. Camilla provo a spiegare un secondo gioco rotto, questa è una parola molto importante perché per chi segue magari non ha proprio una conoscenza totale significa che il gioco che viene chiamato si vede dal playmaker che indica un numero o un movimento delle mani ha una serie prestabilità di movimenti. È chiaro che se l'altra squadra sa come giochi conosce i tuoi giochi fa di tutto in difesa per toglierti quei movimenti e quindi si dice gioco rotto quando quella continuità di movimenti non si può fare. Dove si va? Si va in un campo di improvvisazione ecco quello che voleva dire Matteo. quindi è chiaro che se giochi con un giocatore che nel momento della fantasia lui è in grado di fare costruirsi in tiro prendersi un tiro ad alta difficoltà sul raddoppio su situazioni di mandarti dove non vuoi stare lui è un giocatore creativo da tecnico hai fatto bene a spiegarlo anche per i non addetti ai lavori in chiusura di prima parte Andrea volevo chiederti una battuta fare una considerazione su quello che è successo in settimana i due casi della settimana a livello giovanile uno riguarda anche la nostra zona prima a Carpendolo in provincia di Brescia l'allenatore della squadra under 13 ha ritirato la sua formazione perché dagli spalti arrivavano insulti continui a un arbitro anzi un mini arbitro davvero una vicenda tristissima e poi Walter Magnifico ha denunciato in settimana un fatto di razzismo nei confronti di una sua ragazzina di colore dell'under 18 di Montelabate ecco cosa ne penso io da parte poi dei ragazzini quindi è veramente io penso questo il momento sciocco può succedere a tutti però quel momento sciocco che non ha idea di quanto puoi far male per esempio l'episodio razzismo bisogna spiegarlo molto spesso ragazzini l'episodio invece è quello della protesta sugli arbitri io lo dico da tempo in entrambi i casi dobbiamo prendere delle decisioni chiarissime nette dove la punizione non ti fa più muovere che deve essere una punizione netta perché si stanno aprendo dei casi io l'anno scorso feci un clinic punizioni esemplari esemplari mi sono andato a spulciare tutte le partite il referto gara delle partite a livello di settore giovanile in italia ci sono invasione di campo in partite under 13 14 e 15 che è bello vedere da quello che succede con multe fino a determinate cifre cioè o prendiamo oggi subito delle belle mettiamo dei paletti o se no in futuro apriamo la possibilità a tutti di fare il fatto che il genitore protesta il fatto che il ragazzino protesta si va al di là con poi arbitri di 13 anni che non esiste bene speriamo veramente che si metta un freno a tutto questo che il messaggio sia passato in positivo naturalmente bene per il momento è tutto ci dobbiamo fermare c'è il nostro time out pubblicitario che incombe non andate via perché torniamo tra pochissimo bentornati a Big Basket seconda parte della nostra trasmissione siamo in compagnia di Matteo Palermo play della XL Extra Light Monte Granaro la squadra del giorno e del nostro caro Andrea Pecchia Matteo quest'anno siete praticamente invincibili in trasferta Monte Granaro ha perso soltanto una volta di uno a Verona è un caso secondo te oppure effettivamente ha giocato meglio lontano da casa beh è una domanda a cui onestamente non ho la risposta non ho la soluzione le partite sono tutte da giocare sono tutte diverse quindi hanno un inizio che è un epilogo diverso ognuna per il momento sì i numeri dicono che fuori casa abbiamo un ruolino di marcia veramente tosto però non penso sia adulto ha una differenza meglio giocare in casa fuori non credo a queste cose beh il vostro pubblico vi aiuta e poi anche in trasferta vi segue no no ma non credo ci siano delle congetture astrali particolari ma semplicemente si va si gioca forse anche il calendario ha inciso sì e no perché è vero che comunque dobbiamo andare ancora a Bologna e a Treviso fuori casa quindi per quello sono due trasferti sicuramente difficili molto difficili sulla carta e quindi abbiamo magari approfittato di andare su campi più più agevoli per il momento però non credo appunto a giocare meglio fuori in casa o viceversa e quella Corravenna è stata la prima partita di un trittico di gare interne contro formazioni dirette avversarie dirette inframezzate poi dalla trasferta a Ferrara quindi incontrerete al Palastavelli in questo trittico verità Udine e Forlì che sono due avversarie davvero che lottano per i vostri obiettivi sì io lo ritorno ai Petri questo è un campionato dove puoi vincere con tutti tralasciando Bologna quest'anno perché sta facendo un campionato veramente a parte a sé però con le altre puoi vincere con tutti sia in casa che fuori ma allo stesso tempo puoi perdere perché vediamo tutti cioè vediamo adesso ultimamente la stessa Cagliari che era considerata già morta defunta ha sistemato due cose ha preso un po' più di fiducia e noi per esempio neanche un mese fa abbiamo fatto una fatica incredibile per andare a vincere là e poi la settimana dopo loro sono andati a vincere di 20 a Forlì Forlì a sua volta ha perso con l'ultima in classifica di 20 in casa poi va a vincere di 20 a Verona quindi capiamo che è un campionato veramente ostico e indecifrabile a volte a prescindere dalle posizioni in classifica la poderosa è anche tra le magnifiche otto della Coppa Italia manifestazione che organizzerà in casa quindi al Palasavelli di Porto San Giorgio si gioca dall'1 al 3 marzo e partecipano Fortitudo Biella Virtus Roma Verona Treviso Latina e voi che incontrerete Bergamo è rimasta fuori la vincitrice della scorsa edizione Tortona cosa significa per voi giocare in casa e come vedi l'accoppiamento con gli orobici dell'agnello sicuramente è stata una grande soddisfazione sia per noi come squadra e per ogni singolo individuo che compone il roster raggiungere questo obiettivo e anche penso per il club che appunto aveva organizzato la Coppa e aveva deciso di organizzarla in casa propria e poi la sfida di Coppa Italia anche lì si possono fare mille pronostici ma non si sa cosa può succedere perché sono partite secche e può succedere di tutto Tortona stessa l'anno scorso fece un weekend incredibile poteva penso battere chiunque in quel weekend e poi vinse la Coppa Italia con pieno merito però può succedere di tutto sono partite secche e la macchina e la macchina organizzativa è in pieno fermento ne riparleremo tra qualche settimana con altri protagonisti di Montegranaro e Andrea veniamo alla Termoforge che ha perso il 31 punti a Piacenza contro la Sigeco la società si è scusata con i tifosi e con gli sponsor e poi in settimana ha ingaggiato Maspero e Knowles al posto di Jones che è andato a Roma sì ieri è in un momento un po' particolare chiaramente risultati fuori casa non ne hanno fatti hanno fatto solo risultati in casa questo è il caso Iesi e quindi è partita male in questo momento la situazione è chiaramente abbastanza pesante la classifica è corta perché se pensi che tra 14 e 10 dove sono loro ci sono 6 squadre 6-8 squadre quindi con due vittorie comunque sia già ritorni in una zona relativamente tranquilla quindi è chiaro che ci appressiona Iesi perché dal risultato dell'anno prima con i play-off a quest'anno che stanno lottando è in un momento particolare però vedi quando una società riesce a cambiare l'americano più un giocatore italiano a prenderlo significa che comunque sia dentro c'è ancora energia e quindi non è successo nulla di strano nella società perché è la società la cosa principale dopo se all'interno della squadra ci sono problematiche si possono risolvere appunto con come hanno fatto cambiando i giocatori adesso bisogna vedere come fanno i prossimi due risultati perché tra uno o due poi c'è Bologna quindi hanno un paio di partite interessanti da poter portare a casa con quello già sarebbero tutti molto più sereni e il percorso iesi potrebbe ricominciare facile e l'amministratore unico Altaro Lardinelli ha invitato tutti a rimanere uniti e concentrati sull'obiettivo purtroppo la termoforgia è ultima in classifica con Cagliari e Ferrara è un momento difficile ma l'Aurora è abituata a lottare come si può uscire da questo tunnel? Beh con il cambio che hanno fatto sicuramente c'è qualcosa che possono prendere l'energia dei giocatori che arrivano che hanno diciamo non la pressione degli altri che erano sul pezzo quindi chi arriva da fuori ha meno pressione può portare un po' di tranquillità e poi dopo dipende dal campo perché magari quest'anno dei risultati strani come il meno 31 dell'ultima partita ti lascia pensare se c'era qualcosa tra i giocatori oppure se invece ci sta quelle partite che veramente non fai mai canestro quindi sta tutto a dare di nuovo energia alla squadra ai giocatori la mentalità e quindi di proseguire in un percorso che deve riprendere Iesi assolutamente poi lo deve fare subito onde evitare che poi dopo la pressione diventa veramente forte quando poi ti trovi alle strette dopo è difficile Salendo a uno scalino la VL è andata ad espugnare il Palacarrara come dicevamo dopo 22 anni quindi vittoria su Pistoia 81 a 77 una sfida salvezza fondamentale Blackmon e McCree rimangono il primo e il secondo marcatore del campionato con Artis che è il miglior assistman e diciamo coach Bonicio gli ha riportato l'entusiasmo in città sicuramente hanno fatto due vittorie molto importanti è vero che nelle due vittorie è capitata la seconda con Pistoia dove sinceramente su Pistoia io ho grossi dubbi avendola vista giocare due volte che sia una squadra da Serie 1 quest'anno quindi il roster non lo sento come una squadra da Serie 1 brava comunque sia Pesaro invece a vincere fuori casa perché con quella vittoria la si è rilanciata subito e appunto la classifica è molto corta ridà entusiasmo alla squadra ridà entusiasmo all'ambiente a tutto quanto Pesaro il cambio dell'allenatore dispiace sempre quando c'è un cambio dell'allenatore dispiace sempre in questo caso sta pagando ben per Pesaro io l'altra volta non l'ho detto però mando un saluto a Massimo che chiaramente in questo momento è disoccupato sarà spasso a riflettere su quello che è successo comunque sia Pesaro deve pensare a salvarsi quindi andiamo avanti vittorie importanti bene così bene passiamo ora ai quadri delle partite del weekend cominciando come sempre dalla Serie A dove c'è la seconda giornata di ritorno stasera alle 20.30 la VL Pesaro riceve la Epicasa Brindisi domani in programma tutte le altre partite Dolomiti Energia Trentino Acqua San Bernardo Cantù Sidiga Zavellino Vanoli Cremona AX Armani Exchange Milano contro Segafredo Bologna Alma Trieste Fiat Torino Grissimbor Reggio Emilia Germani Brescia Umana Venezia Oriore Pistoia e Open Giobetti Svarese Banco di Sardegna Sassari Andrea stasera Pesaro attende Brindisi all'andata fu più 15 per i pugliesi che hanno appena battuto Milano sì infatti per Pesaro questo è un turno stranissimo perché non incontrano una squadra sicuramente sono in fiducia quindi c'è tutta quella situazione dove tu devi giocare contro una squadra che quando una squadra è in fiducia a volte succedono delle cose fai delle cose che non ti aspetti anche come squadra in partita quindi questo credo che Matteo lo sappia benissimo quando invece sei in un momento no tutto quello semplice non ti riesci immaginati le cose difficili per Pesaro ecco questa partita è una partita strana però sulla Serie 1 vorrei dire solo una cosa io penso Torino che è ultima in classifica con tutto quello che è successo una Milano staccata di sei punti questo campionato di Serie 1 un po' troppo strano e particolare dove una squadra è andata via ci sono delle squadre che hanno quest'anno un campionato completamente diverso Reggio Emilia insieme io mi auguro che Pesaro in questa cosa qua invece riesca a trovare la forza di vincere due o tre partite di seguito per ritrovarsi in una classifica che gli dà serenità quindi il popolo pesarese possa andare al palazzetto per tifarla perché ti rischi di ritrovarti in mano una stagione che non era prevista al di là delle previsioni e quindi con un ottimo risultato basterebbe ecco la vittoria adesso su Brindisi cosa che chiaramente a un punto di vista di energia di mentalità potresti aver paura ma Pesaro potrebbe farcela in casa c'è davvero tanto equilibrio in coda con molti punti ancora a disposizione il calendario della VL non è semplice perché dopo Brindisi ci saranno Venezia Milano Brescia testa bassa e pedalare sì sì no ma assolutamente poi per Pesaro non è queste le partite da pensare però diventa la storia che se vinci con Brindisi e ti trovi a giocare contro Milano o Venezia non è lontana la vittoria su Milano in casa di Pesaro quella importante quando c'era Repe o altre vittorie con altre squadre quotate quindi si fanno questi risultati l'importante è che Pesaro vada avanti con una partita alla volta giocando al massimo dell'energia e qualcosa succederà Diciottesimo turno in Serie 2 Gironest oggi Ravenna Cagliari domani Fortitudo Treviso Imola Sigieco Piacenza Iesi Forlì Mantua Verona Monte Granaro contro Udine Baccheri Piacenza Ferrara e Roseto 100 Matteo con Udine che ha 20 punti e 3 successi in meno di voi dicevamo è comunque uno scontro diretto sì poi Udine comunque ha un roster costruito per stare tra le prime 3-4 squadre del campionato dopo non sempre lo sport è matematica uno più uno fa due quindi sono un attimino indietro rispetto secondo me a quelle che erano le loro previsioni e infatti hanno esonerato l'allenatore hanno cambiato quindi ci troveremo innanzitutto di fronte a una squadra costruita da giocatori molto forti per la categoria e in più il cambio dell'allenatore si sa può essere sempre uno stimolo nuovo una linfa nuova per i giocatori e per tutto l'ambiente quindi bisognerà stare veramente veramente attenti a questa partita sul come approcciarla e poi come portarla avanti ecco è ritornato coach Martellossi in panchina e analisi di avversario e partita più nel dettaglio beh a Udine sono giocatori come Cortese che l'anno scorso è stato il migliore italiano della categoria e poi ha giocato in Serie A anche diversi anni manca per fortuna nostra e sfortuna loro Powell che qua a Montegranaro conoscono molto bene e poi anche gli altri italiani comunque Spanghero Penna Nikolic tra l'altro un altro ex una squadra una squadra gli americani Simpson che sta facendo un campionato straordinario una squadra molto molto forte e completa in ogni reparto Iesi se la vedrà con Forlì non il miglior cliente con cui riscattarsi sì perché riallacciandoci al discorso che diceva prima Andrea sono dei momenti in cui io personalmente penso che la testa faccia completamente la differenza se sia nei momenti di fiducia e di buon feeling si possono fare cose anche sopra la media cose che magari non riescono bene invece nel momento di negatività di poca fiducia viene veramente difficile tutto lo dico perché capita in prima persona anche a me a volte da giocatore per cui non credo sia tanto il problema di chi va a incontrare Iesi in questo momento ma siano loro stessi tra virgolette il problema cioè uscire da questo momento di crisi di poca fiducia come stai vedendo i cugini della Termoforge che campionato stanno disputando secondo te io adesso non è che seguo la rassegna stampa d'agosto di ogni squadra credo che Iesi voglia mantenere la categoria il loro obiettivo sia mantenere la categoria quindi come diceva Andrea c'è una classifica molto molto corta che racchiude 6-8 squadre tra l'ultima e l'ultimo posto disponibile per i playoff quindi basta veramente inanellare una serie di risultati positivi che tutto cambia il vostro obiettivo è quello di essere più in alto possibile considerando che la fortitudo è davvero un passo per la promozione diretta no credo che Bologna se domani vinca con Treviso non voglio portargli sfortuna però a meno che non succeda qualcosa di incredibile siano con un passo nel Serie A insomma perché hanno tutti gli scontri diretti a favore hanno un vantaggio sulle altre pazzesco quindi per quanto riguarda noi stiamo facendo un campionato secondo me anche noi pazzesco perché l'anno scorso hanno raggiunto un obiettivo da neopromossa quasi non dico impensabile perché poi vai a vedere il roster comunque una squadra forte però ripetersi non è mai non è mai scontato si è cambiato si è cambiato anche parecchio dalla guida tecnica ai giocatori quindi non è mai scontato quello che non è scontato quello che stiamo ottenendo raccontaci il Matteo Palermo extra basket cosa ti piace fare i tuoi hobby le tue passioni chi sei adesso che ho finito di studiare sto un po' tirando i reni in barca nel senso che mi metto sul divano guardo la tv e mi rilasso no faccio quello che fa un ragazzo di 27 anni detto questo la mia passione più grande la pallacanestro guardo un sacco di partite occupo molto il tempo guardando partite di basket di un po' tutte le categorie in più c'ho anche una fidanzata quindi devo anche dare devo anche occuparmi direi sotto suggerimento dell'addetto stampa Marco Pagliariccio parlaci di un attacco snite avvenuta in settimana che cos'è? la famiglia Corbett è stata molto molto carina invitare la squadra a fare questa questa serata a casa loro dove si mangiava appunto cibo messicano non leggerissimo no ho avuto qualche problema durante la notte ad addormentarmi però è stato molto piacevole siamo stati tutti insieme facendo una cosa molto semplice una cena e passando del tempo insieme anche queste cose servono per unire il gruppo assolutamente per rinsaldare questa squadra poi siamo sicuri che in campo non si vedrà nulla di quella sera sarete tutti pronti per la partita sulla di piccanti ecco bene concludiamo con la serie B girone C domani alle 18 Porto Sant'Elpidio va Giulianova Fabriano ospita Corato e ancora Teramo Senigallia e Ancona Bisceglie bene è davvero tutto per questa puntata di Big Basket io ringrazio immensamente il play della XL Extra Light Monte Granaro Matteo Palermo e a te Camilla in bocca al lupo per il prosieguo di carriera e di stagione Crepi grazie mille alla sempre preziosissima Andrea Pecchia grazie Camilla in bocca al lupo Matteo grazie a tutti voi ci vediamo sabato prossimo it's a beautiful it's a beautiful grazie a tutti per la Gudreglie 黑 toppi perché mi è un som